Sul suolo campano si disputerà il dicesettesimo confronto ufficiale tra Casertana e Palermo, compreso la gara d'andata disputata al Barbera e terminata con la vittoria dei Rosanero per 2-0, grazie ai golli di Rauti e Lucca. Dei due squadri si sono sfidate quattro volte in Serie B, 11 in C1 e una volta in Coppa Italia. Il bilancio vede cinque vittorie del Palermo, cinque della Casertana e cinque i pareggi. Sul campo dei Rosso-Blu i Rosa hanno vinto soltanto una volta in Coppa Italia, 1-0 nella stagione 85-86. Nei restanti sette incontri disputati a Caserta, cinque sono le vittorie campane e due i pareggi. Il primo confronto intera campana a cui si riferiscono le immagini si disputò in Serie B. Era il 18 ottobre 1970 il Palermo del presidente Barbera con Carmelo Di Bella in panchina. Il risultato fu 3-1 per i Casertani, grazie ai golli di Ferrari su rigore per i Rosa e migliorati e doppietta di Fazzi per i Casertani. L'ultimo confronto della stagione 92-93, il Palermo del due Polizzi e Ferrara e con Neorazzi in panchina, il 21 marzo 1993 ottenne uno dei due pareggi sul difficile campo campano.